2, 1, via! Vai Ricky! Ricky, stendi il bacino! Guarda che è tutto registrato, la stella! Vai Paolo! Vai Paolo! Bravo Paolo, via! Grazie a tutti! Bravo, super fra! Vai Franci! Grande stella! Sì, e scopo qui? Come va! Non mi devo fare, come va! No, no, no! No, no! Come va! No, no, no! No, no! Si che stai a te l' dúzia? Oh! Di sé! Chi stai? Perchè? Che stai? Così? Con questo giusto? bravo Riky, dai Riky! Riky, più veloce! No Riky, non quella no? Eh sì, perché mi puoi capire! No quella a fianco, quella a fianco Riky! E' bello mio! Mi butta i piedi in faccia! Mi butta i piedi in faccia! No, brava! Sì! Vado avanti! Regatti, state bene eh? Chi vuoi! Vai, venire l'anno! Cos'è la fanno? Vieni! C'è qualcosa di una caratteristica! È duro! Vieni! 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 Va bene, va bene Paolo, va bene! Vai Andre! Vieni! Una... Sì! Vai! Sì! 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 Ehi! Eh! Eh! Ehi! No! Vai Edo! Resta! Resta! Vieni! Ehi! Deve usare due gambe bravo vai vai edo vai oh ragazzi aveva giocato al foto fini veloci 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 posizione solo al mio via via ok perdete il portato con la palla andateci bene sotto via tempo più giri possibile Stai su questo sedere Paolo respira respira dai 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 Sve! Vai Enricchi! Che che stoppa? Andiamo tutti a salutare! Paolo, non ci pensare neanche! Paolo, non ci pensare neanche! Andiamo, andiamo! Andrea, vai subito! Dai, dai! Solo! 10! Ricchi, scatta! Francicori, aumenta! 5, 4, 3, 2, 1... Dai! Bravi! Ragazzi, venite a salutare! Grazie! Vieni, vieni qua! Facciamo così che andiamo tutti là! Tutti qua, vieni! Ragazzi, salutate! Ciao! Ciao! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Grazie!